Continua ad animare il dibattito politico il passaggio del consigliere Nino Caridi dalla minoranza alla maggioranza tra accusa di volta gabbana e benarrivati in Casascionti, l'argomento fuga dai banchi dell'opposizione a quelli della maggioranza, Taurianova, dalla sala consigliare ai comunicati si è passati alle piazze, quelle vere e quelle virtuali. Le frecciate stanno trovando vigore e spazio soprattutto sui social e qui il confronto è ancora più duro. Post roventi contro il consigliere di alternativa popolare sono all'ordine del giorno, le stoccate verso l'ex sono pesanti, con la cognizione che il fuoco incrociato prima o poi si placherà Macaridi queste critiche le aveva messo in preventivo, tant'è che nella sua dichiarazione in consiglio nel giorno della sua adessione al progetto Taurianova Cambia ha parlato della consapevolezza di poter ricevere aspre critiche. Il massacro virale continua, tanti di questi giudizi sono spazzatura, eppure tra post trash, soloni da tastiera e pastorali alimentate da un moralismo spiccio, sbirciando qua e là si trova qualche dichiarazione di peso, perché a formularla è l'esponente di Impresa Calabria, Maria Stella Morabito, il consigliere tra i più votati alle ultime amministrative, eletta nelle file della maggioranza, ma dopo allontanatasi in dissenso con il sindaco. In un posto su Facebook chiarisce la sua posizione facendo dei distinguo tra chi entra e chi esce. In questi giorni scrive nel leggere taluni commenti all'ingresso in maggioranza del consigliere Caridi noto che si sta facendo volutamente un po' di confusione. Il rappresentante d'opposizione puntualizza uscire dalla maggioranza perché non si condivide l'impostazione dell'azione amministrativa della coalizione Taurianova Cambia, che dalle prime battute ha mostrato di non volersi discostare dalla vecchia politica, dopo aver cercato in vano di contribuire ad una diversa impostazione come promesso in campagna elettorale, è un atto di fedeltà nei confronti degli elettori. L'esponente nell'argomentare il suo ragionamento mette dei pareti. Non piegarsi alle solite logiche non è un atto di opportunismo provato dal rifiuto del famoso quinto assessore, ma di coerenza. Sedere nei banchi dell'opposizione non significa cambiare casacca, ma soltanto prendere le distanze da un modus operandi che non si condivide e non si intende soprattutto ratificare.